In collaborazione con E3SPA, Energia, Territorio, Risorse Ambientali. Buonasera, ben ritrovati con Focus. Un importante imprenditore del nord-est parla al telefono e esprime dei giudizi non lusignieri su un dirigente pubblico. Ne parla con amici e conoscenti, ne dice peste e corna, lo critica e in qualche modo dice che non è adatto a ricoprire un ruolo così importante ed è ricambiato con la stessa disistima dall'interessato. Parla al telefono liberamente e non sa che viene intercettato da mesi dalla Guardia di Finanza per ordine della Procura di Vicenza. Parla come chiunque di noi parla al telefono quando magari è in preda a un momento di rabbia, di disappunto e quindi in maniera piuttosto aggressiva. Viene intercettato e per avere parlato male del direttore generale dell'USA 7 Pedemontana Carlo Bramezza, viene visitato da un gruppo di finanzieri nella sua azienda, nel suo ufficio, che sequestrano computer, materiale, documenti e riceve nel contempo un ordine di interdizione dal lavoro della Procura di Vicenza. Per presunte minacce telefoniche, evidentemente, per pressioni riguardanti la sanità bassanese. È una vicenda sconcertante che ha visto poi intervenire il Tribunale del Riesame, che ha sospeso l'ordine di interdizione dal lavoro, perché non ha ritenuto che le accuse fossero fondate, e la stessa cosa ha sentenziato la Suprema Corte, la Cassazione, che ha detto che nelle intercettazioni, nei video, nei servizi che sono stati mandati in onda dopo che la nostra truppa era stata cacciata dall'ospedale san Bassiano, da una conferenza stampa, proprio in seguito ai dissapori tra questi due uomini, la Suprema Corte ha sentenziato che in questi servizi, nelle telefonate, non ci sono minacce, non ci sono state pressioni, non ci sono state intimidazioni, non c'è stata una campagna denigratoria. Nonostante questo, l'ingegnere Giovanni Iannacopoulos, che è il nostro azionista di maggioranza, che ha fondato con il figlio Filippo Media Nord-Est, evidentemente un'azienda che è scomoda, perché dice pane al pane, al vino e dà le notizie che alcuni vorrebbero non dare, è richiesto di essere rinviato a giudizio. Ci sarà il 10 ottobre una prima udienza per decidere se questo imprenditore colpevole di aver parlato male di un dirigente pubblico debba finire in tribunale e magari subire una condanna. Abbiamo parlato oggi con il suo avvocato difensore, l'avvocato Maurizio Paniz, siamo andati a trovarlo nel suo studio di Belluno, sentiamo come ha commentato questi ultimi sviluppi di una vicenda veramente sconcertante. Avvocato Paniz, nelle motivazioni della Cassazione non c'è traccia di minacce da parte dell'ingegnere Iannacopoulos né di diffamazione nei servizi che sono andati in onda su Rete Veneta e sulle nostre reti. Già il Tribunale del Riesame di Venezia era stato molto chiaro nell'escludere qualsiasi intento diffamatorio e qualsiasi contenuto diffamatorio ai servizi che erano stati mandati in onda dalle reti televisive nei confronti dell'Ulspede Montana e del Dottor Bramezza. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente perché per respingere il ricorso del Pubblico Ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi e è arrivata proprio la conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare, legittimare la reazione del Dottor Bramezza o di chi per lui. Come si è arrivati al rinvio giudizio di un imprenditore che ha fondato un grande gruppo editoriale che non ha mai avuto problemi con la giustizia, che non ha nessun interesse soprattutto nella sanità? Ma rientra nei poteri dei pubblici ministeri di avere convinzioni che sono conflittuali anche con le prove apparenti. E' chiaro che in questa vicenda c'è il convincimento del Pubblico Ministero che si possa andare o si debba andare a fondo per verificare se ci sono profili diffamatori nonostante l'esclusione che è stata operata prima dal Tribunale del Riesame e poi dalla Cassazione. E' un percorso fisiologico nella giustizia e che va naturalmente rispettato. Poi dobbiamo anche dire che la richiesta di rinvio giudizio non significa rinvio giudizio e l'eventuale rinvio giudizio non significa affatto un'affermazione di responsabilità. Sono moltissimi casi nei quali viene prospettato un rinvio giudizio che poi sfociano in soluzioni piene. E' un'inchiesta partita in un modo piuttosto anomalo, non c'era stata all'inizio nessuna denuncia. E' arrivata la Guardia di Finanza negli uffici di Rete Veneta e il giorno dopo tutti i giornali avevano nome e cognome dell'indagato e quindi subito esposto al pubblico ludibrio. E' un modo di fare che francamente ancora una volta stupisce. Purtroppo noi viviamo in un paese dove gli esempi da questo punto di vista sono numerosissimi. Abbiamo perso due giorni fa, pochi giorni fa, il Presidente Berlusconi e tutti ricordiamo come mentre presiedeva il Summit dei Grandi del Mondo a Napoli è arrivato un avviso di garanzia che era stato passato dalla Procura di Milano la sera prima al Corriere della Sera che naturalmente ha diffuso la notizia nel quotidiano del giorno dopo prima ancora che l'interessato ne venisse a conoscenza. E' un pessimo sistema, purtroppo è un sistema che qualche volta viene utilizzato e questo rammarica perché la giustizia dovrebbe essere assolutamente tale da consentire a tutti di avere fiducia e la fiducia qualche volta viene meno quando si verificano episodi di questo genere. In questa vicenda in particolare, fermo restando che a me non piace parlarne se non nelle aule di giustizia perché questo è il posto dove si dovrebbero esaminare anche questa tipologia di iniziative e di comportamenti in questa vicenda evidentemente c'è stata una diffusione mediatica anticipata di alcune notizie e queste notizie hanno determinato quella diffusione di messaggi addirittura prima ancora che l'interessato venisse materialmente a conoscenza di quello che stava succedendo. Ma non sono sorpreso, purtroppo sono cose che avviliscono ma sono cose che succedono. Ecco, ieri la riforma della giustizia targata a Nordio, il Ministro della Giustizia, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri e una parte importante è proprio quella delle intercettazioni e quindi il divieto di pubblicare intercettazioni in cui compaiano terzi, in cui compaiano persone che hanno detto cose non penalmente rilevanti e che poi vengono coinvolte dai giornali in vicende giudiziarie a cui sono completamente strane. E questo è proprio il caso che rende evidentissima la necessità della riforma voluta dal Ministro Nordio. Se la riforma votata ieri in Consiglio dei Ministri fosse già in vigore, avrebbe impedito di dar conoscenza di quelle migliaia di intercettazioni che hanno fatto sì che il nome di persone assolutamente strane alla vicenda e sostanzialmente ineccepibili dal punto di vista del loro comportamento venisse affiancato a profili di analisi, di liceità eccetera. Queste mille passa intercettazioni sarebbero rimaste segrete, probabilmente non sarebbero neanche mai state utilizzate o forse utilizzate in sede processuale quelle poche che potevano avere una rilevanza e molte persone avrebbero evitato di vedere il proprio nome affiancato a questo percorso istruttorio che doverosamente avrà il suo iter ma che l'avrebbe avuto senza l'anticipata valutazione di intercettazioni che finiscono per essere foriere di sospetti, di analisi molto pressapochiste, di vicende verificate senza che ci sia un vaglio concreto sul loro essersi svolte in un certo modo o in un altro modo oppure valutazioni di tipo squisitamente personale perché quando si intercetta una persona non si riesce a cogliere il tono dell'intercettazione, le parole possono essere dette in maniera scherzosa o in maniera seria, in maniera collegata ad altre considerazioni antecedenti o successive che ne cambiano completamente il significato. Insomma tutto questo, la storia ha insegnato che viene molto spesso svilitto di significato nelle pubblicazioni anticipate e ha fatto molto bene il Ministro Nordio ieri a portare in Consiglio dei Ministri lo stralcio totale della possibilità di pubblicare in anticipo intercettazioni che non siano direttamente collegate alle persone indagate. Questo è un grande principio di civiltà che spero il Parlamento possa provare in tempi molto ragionevoli perché c'è stato ormai nel tempo un abuso davvero troppo forte del tema delle intercettazioni e nessuno dice che non siano necessarie per certi tipi di reati ma che si sia abusato delle stesse per alimentare quella pruriginosa attenzione verso aspetti che rispetto ai processi non c'entrano niente è un dato assolutamente storico e inequivoco. Avvocato è normale che un imprenditore che ha un rapporto burrascoso con un dirigente pubblico venga intercettato e le sue riserve su una persona che non stima poi vengano utilizzate proprio per una causa che potrebbe anche durare anni. Cioè è normale che chiunque di noi non possa parlare liberamente al telefono perché c'è il timore, ci può essere il timore che qualcuno lo ascolti. A questo punto la libertà di critica, di espressione è veramente messa a repentaglio. Cominciamo col dire che io vorrei che in ogni territorio ci fossero delle persone come gli ingegneri Anacopoulos che si prendono a cuore la tutela della salute del loro ambiente e che hanno il coraggio di dire quando le cose non vanno e di censurare delle scelte che possono apparire ai più assolutamente fuori del mondo. Io mi permetto di dire che è discutibile e non aggiungo altro dal punto di vista della qualificazione che sia alla guida di un ULS, cioè di una realtà importante che manovra cifre importanti che ha responsabilità importanti, una persona che ha dimostrato nella vita imprenditoriale privata di non essere all'altezza della situazione, se è vero, come è assolutamente vero che ha un deficit avendo fatto ricorso a una procedura di sovraindemitamento per circa 11 milioni. Quindi cifre assolutamente molto significative, che peraltro il Tribunale degli Esame ha evidenziato e sicuramente la Cassazione dietro le quinte ha tenuto in attenzione. Quindi questa è la premessa e la premessa porta al passaggio successivo. Se una persona si muove nell'interesse della propria comunità ha il diritto di potersi esprimere in assoluta libertà senza che le proprie parole vengano poi strumentalizzate, vengano poi messe all'udibrio perché quando sono disancorate dal contesto nel quale si sono sviluppate evidentemente la loro lettura e la loro interpretazione finisce per essere spesso molto personale. Quindi certamente l'attacco alla libertà di espressione e prima alla libertà di pensiero è assolutamente censurabile. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione. E francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero, un loro cavallo di battaglia perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Iannacopoulos e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile dal punto di vista della valutazione oggettiva a quello che sta succedendo. Tra l'altro noi abbiamo ricordato tante volte che l'ingegnere Iannacopoulos da anni conduce delle battaglie civili proprio a tutela dei cittadini sul versante sanitario, ha creato lui la trasmissione I Veneti schiacciati dalla crisi per aiutare gli ultimi e quindi noi diamo veramente un aiuto concreto a tante famiglie in difficoltà, ha aiutato bambini disabili che avevano problemi, ha fatto raccogliere fondi proprio per aiutare le loro famiglie e quindi non si capisce per quale motivo tutta questa attività venga messa all'indice e venga in qualche modo collegata a vicende che sono completamente di altra natura. Ho già detto che io vorrei che in ogni territorio ci fossero dei paladini, soprattutto nel settore della sanità. Non è necessario che sia io a illustrare gli straordinari meriti che ha avuto l'ingegnere Iannacopoulos nel suo territorio per rendere la sanità migliore, per dotare la sanità di ulteriori strumenti che magari il mondo pubblico non poteva permettersi e che attraverso donazioni private sono arrivati e così via. Non è necessario che lo dica io. A me poi piace l'intervento, come dire, silenzioso verso il mondo della vera efficienza perché chi fa è meglio che lo faccia il più possibile in silenzio. Ma detto questo, quello che è strano è che questo tipo di iniziative, che peraltro erano favorite da un consenso popolare assoluto, se pensiamo che l'ingegnere Iannacopoulos si è reso testimone di un messaggio arrivato da una sottoscrizione di migliaia e migliaia di cittadini del territorio bassanese che si lamentavano di determinate cose e così via, insomma venga censurato per aver fatto ciò che tutti vorremmo che qualcuno facesse. Però la giustizia ha anche delle sfaccettature che non sempre si colgono immediatamente. Poi in serie di approfondimento magari si capirà anche che cosa c'è dietro questa vicenda, che cosa ha animato alcune impostazioni inquirenti, vedremo quello che succederà. Io dico sempre che i processi non si devono valutare quando partono, si devono valutare quando sono finiti, con tutto quello che ciò comporterà fisiologicamente. A me piace una giustizia che sia e che appaia assolutamente trasparente, indipendente, autonoma, non condizionata. Vedremo se anche in questa vicenda tutte queste caratteristiche ci sono state dal primo all'ultimo minuto. Ecco, ovviamente noi siamo stati sempre molto sensibili ai problemi della sanità e le nostre redazioni hanno sempre dato notizie di quanto la gente sosteneva, per una uslo piuttosto che per l'altra. Spesso sono giudizi critici, noi li riportiamo proprio perché vogliamo dare voce ai cittadini. L'abbiamo sempre detto dall'inizio della nostra avventura televisiva con Media Nord-Est. Sia la Cassazione che il riesame hanno ribadito che non c'è diffamazione dei servizi, nei molti servizi che abbiamo mandato in onda, servizi numerosi in proporzione a quelle che sono state le lamentele dei cittadini. Questo è veramente un attacco alla libertà di stampa, perché a questo punto non si può più criticare, bisogna solo blandire il potere. La famosa battuta, che poi è un mantra del nostro mestiere, i giornalisti sono i cani da guardia del potere, a questo punto non avrebbe più nessun significato se fossimo soltanto lì a fare gli zerbini delle istituzioni. Io credo che il Tribunale del riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari, con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera pulita, in maniera insuscettibile di condizionamenti. E la Cassazione, che è il baluardo che noi abbiamo nel nostro paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara nel ricordarne i gangli fondamentali, nel ricordarne i presupposti fondamentali e non sono presupposti solo italiani, sono presupposti di tutto il mondo libero occidentale, direi consolidato dalle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla quale proprio il Tribunale del riesame ha fatto ripetutamente riferimento. Quindi noi dobbiamo essere grati che ci siano già due pronunce assolutamente inequivoche. Poi, se qualcuno ritiene che queste pronunce non vadano bene e non siano all'altezza della situazione, benissimo, prosegua l'iter processuale, faremo i processi e ci saranno degli ulteriori giudici che esamineranno la situazione e se ci sarà una condanna ci sarà qualcuno in appello che potrà rivederla e semmai qualcun altro in sede di Cassazione che potrà a sua volta rivederla. Poi arriveremo a una parola fine e la parola fine sarà sicuramente nel segnale del rispetto della libertà e del non condizionamento, perché questa vicenda dimostra la valutazione meritocratica di chi ha il coraggio di andare anche contro il potere nella sua espressione più tipica senza remore, dicendo esattamente come stanno le cose, indicando esattamente la necessità di avere determinate risposte che non sono peraltro mai arrivate, senza subire quello che questi emittenti qualche volta hanno subito, come è successo quando di fronte a una conferenza stampa indetta per un esame di fine d'anno della attività svolta nell'Ulse numero 7 sono state espulse, non ammesse alla conferenza stampa, gesto assolutamente inequivoco per la portata molto pesante. Forse sarebbe il caso di valutare se episodi di questo genere sottendano un abuso d'ufficio o qualcosa di questo genere, perché trattare alcune persone in maniera differenziata rispetto ad altre quando si hanno delle responsabilità pubbliche impone una certa attenzione. Vedremo alla fine se in questo iter processuale che è stato sviluppato sono stati rispettati tutti i canoni e se le indagini sono state fatte tutte nella giusta direzione. Poi io ho il massimo rispetto sempre per la giustizia, ho il massimo rispetto per gli inquirenti, ho anche molta stima per alcuni dei protagonisti giudiziali di questa vicenda perché ho avuto occasione di incontrarli in non poche vicende processuali. Ripeto, vedremo alla fine come staranno le cose. Certamente il ruolo del difensore mio è di far emergere tutto ciò che deve emergere in piena assoluta trasparenza, senza qualsiasi tipo di condizionamento e senza che ci sia qualcuno che pensa di poter zittire il difensore o financo l'imputato quando l'imputato barra indagato a seconda dei momenti del processo dichiara delle cose che sono volute, sentite e provate anche a livello di comunità territoriale. Avvocato, lei prima ha ricordato la scomparsa di Silvio Berlusconi di cui lei è stato amico e ricordo anche che è stato parlamentare di Forza Italia. Silvio Berlusconi che è stato rinviato a giudizio più di 30 volte, alla fine è stato condannato una sola volta per frode fiscali. Questa è una vicenda in qualche modo analoga, qui c'è comunque il fondatore di un gruppo televisivo che viene così attaccato, per quanto è apparso a noi, è che si deve difendere. C'è nei confronti, secondo lei, di chi gestisce la comunicazione, può esserci un pregiudizio o la volontà in qualche modo di indebolire un gruppo che può diventare scomodo, può essere troppo forte rispetto ad altri? La vicenda di Silvio Berlusconi, possiamo parlarne con assoluta libertà, è una vicenda che sicuramente ha determinato sofferenza in chi crede nella giustizia e non perché la giustizia non avesse il potere barra dovere di indagare. La giustizia ha fatto sempre benissimo a indagare, però sono strane sicuramente alcune cose, che una persona sia arrivata fino al giorno che entra in politica assolutamente in tonso e senza nessun percorso giudiziale e che dal giorno in cui è entrato in politica sia stato sommerso da iniziative giudiziali è abbastanza anomalo. Poi che questa miriade di procedimenti che si sono sviluppati abbia determinato anche degli eccessi dal punto di vista anche dei contenuti, pare chiaro se solo si guardano i risultati finali. Nella vicenda Rubi noi dobbiamo essere molto realisti nel ricordarci che in primo grado è stato condannato a 7 anni di reclusione Berlusconi, dico 7 anni di reclusione per essere poi assolto in secondo grado perché i fatti non sussistono. Ora è vero che noi abbiamo la fortuna di avere un percorso giudiziale dove ci possono essere primo, un secondo, un terzo grado, quindi delle valutazioni differenziate, però sorprende che ci sia stata una condanna peraltro così pesante a fronte di fatti che poi con l'avallo del giudicato, cioè della sentenza definitiva, vengono considerati totalmente esenti da responsabilità. Berlusconi è stato condannato tra altre cose in un'unica vicenda di contenuto fiscale contro tutti i precedenti che nella stessa materia erano stati esplicitati ed è sembrato strano che uno dei componenti di quel collegio, uno dei cinque magistrati che hanno deciso in Cassazione, qualche anno dopo si sia, come dire, pentito della decisione e abbia sentito il rimorso di dover esprimere a Berlusconi le proprie scuse segnalandogli quanto era stata inopportuna quella decisione e secondo lui sbagliata. È vero, il segreto della Camera di Consiglio diventa difficilmente eludibile, diventa con fatica modificabile all'esterno e comprensibile all'esterno, però non è che capiti tutti i giorni che un magistrato della Camera di Consiglio dopo qualche anno abbia il coraggio di pentirsi e di dire che quello che è stato fatto lo riteneva profondamente sbagliato ed è quello che in questo caso è accaduto, ma il dato storico è che quella sentenza confliggeva con una serie di affermazioni della stessa Cassazione espresse da molti altri giudici in antecedenza e che in quella vicenda era stato creato un collegio giudicante assolutamente anomalo, nel senso che non era composto dai magistrati della sezione perché si voleva evitare che il procedimento andasse in prescrizione, tant'è che è stato trattato in un mese nel quale normalmente l'attività giudiziaria non si sviluppa che è il mese di agosto, come tutti sanno. Quella vicenda ha avuto degli aspetti assolutamente discutibili. Allora io non voglio equiparare a Silvio Berlusconi e gli ingegneri Anna Coppolos perché ciascuno ha la propria storia, ciascuno ha i propri meriti, ciascuno ha i propri limiti come è normale nella vita. Sicuramente però siamo di fronte a due situazioni che possono avere dei parallelismi molto utili per quanto riguarda il proclama dell'uno e dell'altro di lottare per la libertà di espressione e di comportamento. Berlusconi ha fatto della lotta per la libertà di comportamento e di espressione il suo mantra quotidiano. Lo dico per la conoscenza personale che ho di lui ma direi che ormai lo sa tutto il mondo. L'ingegneri Anna Coppolos ha fondato un gruppo, si è reso paladino nel suo territorio di una difesa accanita, forte, qualche volta censurabile nei modi ma non nei contenuti, difesa del mondo della sanità che è un mondo al quale tutti noi dobbiamo essere legati perché la nostra sopravvivenza è legata proprio all'efficienza della sanità. Nessuno di noi è talmente forte da dire non avrò mai bisogno di una cura, tutti noi abbiamo bisogno di una cura, quindi lottare perché questa cura venga diffusa nel modo migliore, con il massimo dei mezzi a disposizione, con la migliore organizzazione possibile e con i migliori contenuti possibili rappresenta un obiettivo di tutte le persone serie e avere qualcuno che si prende a carico di esternare questi obiettivi, di lottare per questi obiettivi dal mio punto di vista è un titolo di merito. Se qualcuno la pensa in maniera contraria va bene, ha diritto di pensarla in maniera contraria, poi vedremo alla fine se su 100 persone ce ne sono 99 che pensano una cosa e uno è contrario oppure se è esattamente l'opposto. Io ribadisco i miei convincimenti e ribadisco che vuoi nel caso di Silvio Berlusconi, vuoi nel caso di Lignani Anacopoulos, siamo di fronte a due persone che hanno lottato sempre per la libertà di espressione e di comportamento nell'ambito del rispetto delle regole. Nessuno dei due ha voluto andare oltre le regole, le regole rappresentano un presupposto della vita democratica di un paese e mi pare che entrambi hanno cercato di far sì che queste regole venissero regolarmente rispettate, del resto per quanto riguarda Berlusconi lo prova il fatto che su decine e decine di procedimenti la grandissima parte si è risolta in un nulla di fatto. Abbiamo citato prima la vicenda dell'informazione di garanzia che gli è pervenuta dopo la diffusione data in anticipo al Corriere della Sera del messaggio palesemente giudiziario e palesemente segreto in quel momento, quindi con una diffusione obiettivamente abnorme e abbiamo tutti saputo che quel procedimento si è concluso con una soluzione piena perché i fatti non sussistono. Questo dimostra quanto molte volte certi comportamenti siano dettati da logiche di altro genere, magari della più abietta politica perché usare la politica per attaccare dal punto di vista giudiziario i rivali, è molto censurabile dal mio punto di vista, i dati sono questi, in una società plurima come la società del nostro paese possono succedere anche queste cose, prendiamone atto e lottiamo perché non si verifichino più. Avvocato, torno alla riforma della giustizia approvata ieri dal Consiglio dei Ministri perché hai dato uno scontro molto duro tra il guardasigilli e una parte della magistratura. Ieri Nordio, ha detto, siccome è un uomo che non le manda a dire, ha detto la politica non deve subire le pressioni della magistratura, quasi che la magistratura in qualche modo possa condizionare il Parlamento o il governo. Quando si usa la parola magistratura bisogna stare molto attenti perché la magistratura è fatta da 11 mila persone, poco più poco meno, tanti sono i magistrati del nostro paese. La grandissima parte di questi magistrati è eccellente, fa il suo lavoro in silenzio, per bene, con un rispetto pienissimo delle regole. Nel contesto complessivo c'è anche qualcuno che si muove in una maniera diversa. Penso che ognuno dovrebbe fare il suo mestiere, il politico deve fare le leggi perché è lì in Parlamento per farle, idem il governo attraverso gli interventi a livello governativo, i magistrati devono fare le loro indagini se sono inquirenti o i processi, i procedimenti, le sentenze, i vari itali giudiziali se sono magistrati della giudicante. Ognuno faccia la sua parte, non ci siano invasioni di campo. Io dico sempre, le sentenze possono non condividerle, ma vanno rispettate. Questo è un principio fondamentale. Il magistrato deve rispettare l'attività del politico, può non condividere le scelte politiche e questo fa parte della vita, ma nel momento in cui accetta di fare il magistrato deve applicare le leggi che il Parlamento gli ha presentato. Questo è un principio assoluto di democrazia. È vero che c'è in atto questo scontro molto forte tra l'Associazione Nazionale Magistrati, però l'Associazione Magistrati intanto non rispecchia tutti e poi forse non rispetta nemmeno integralmente l'opinione di tutti gli aderenti, perché non credo che tutti gli aderenti siano proiettati a dire che l'abuso d'ufficio deve restare in vigore quando i numeri sono inequivoci. Se in un anno, come quello che è stato dimostrato anche nei lavori preparatori a queste decisioni, vengono aperti 5 mila procedimenti per abuso d'ufficio, 5 mila e in un anno arrivano 18 condanne, c'è qualcosa che non va evidentemente d'accordo il diritto di istruire, però la proporzione è talmente squilibrata che il parlamentare ha il dovere di verificare se ci possono essere degli strumenti che perseguendo gli illeciti siano più congrui, perché pensiamo qual è stato il lavoro di istruzione di 5 mila procedimenti per arrivare a 18 sentenze di condanna che sono lo 0, alla fine risultati finali e quanto tempo si è perso, quante risorse sono state dedicate a tutto questo. Lo stesso discorso vale per le intercettazioni che molte volte vengono fatte a strascico per cercare di raccogliere qualche dato che non si trova da altre parti con dispendi giganteschi. C'era stata un'attenzione molto particolare alla procura di Bolzano da parte del dottor Tarfusser all'epoca, parliamo di uno 15 anni fa, che aveva dimostrato proprio come i numeri di spesa fossero totalmente ingiustificati rispetto ai risultati e questo è stato acclarato anche in moltissime verifiche che sono state fatte. Io credo che la politica ai massimi livelli ha il dovere di intervenire quando ci sono queste strutture, piaccia o non piaccia. Poi, come ripeto, e lo ribadisco a voce alta proprio per la stima che ho nei confronti del settore della magistratura, ci sono tantissimi magistrati straordinariamente bravi, eccellenti, preparati che costituiscono una garanzia per il nostro Paese. A loro va la mia stima e deve andare la stima di tutti i cittadini italiani. Avvocato, dopo la richiesta di rivia giudizio per l'ingegner Iannacopoulos, la prima udienza sarà il 10 ottobre, ci conforta a vedere che rispetto al calvario a cui è stato sottoposto un imprenditore che noi stimiamo e apprezziamo molto e che ha fondato il nostro NECOR, ci conforta a sapere che stiano dalla nostra parte i cittadini. Tutti, rispetto a quanto è uscito sui giornali, telefonano, ci scrivono e ci invitano ad andare avanti. Io prendo atto che moltissimi organi di informazione in queste settimane hanno continuato a pubblicare articoli spesso molto, tra virgolette, tendenziosi, nel senso che prospettavano più impostazioni accusatorie che non impostazioni difensive. Prendo atto con rispetto perché avendo sempre inneggiato la libertà di stampa, inneggio anche alla libertà di coloro che vogliono esprimere delle cose che non condivido. Le rispetto, punto e basta. Poi vedremo, a ottobre avremo una prima udienza davanti al giudice delle indagini preliminari, vedremo quello che succederà, poi ce ne saranno probabilmente delle altre, non è un percorso neanche per l'accusa da prendere con molta leggerezza. Comunque sappia che io la mia parte la faccio tutta, come è doveroso che sia e come farebbe qualsiasi difensore al mio posto, poi tireremo le somme alla fine. Ripeto, alla fine. Per il momento ci sono due decisioni e mi rammarica che non sempre questo venga segnalato negli organi di informazione che in queste settimane hanno ampiamente scritto sull'argomento, mi rammarica che questo non sia stato messo in luce, perché ci sono due decisioni già molto chiare, sono due decisioni, una del Tribunale degli esami e una della Cassazione che hanno messo comunque due punti fermi. Poi vogliamo contraddirli? Benissimo, vedremo se e come saranno contraddette, però al momento questi sono i punti fermi, il resto sono convinzioni personali che può avere l'accusa e può avere la difesa. Avvocato, grazie molte, grazie molte e buon lavoro. È un piacere. E questa era l'intervista all'avvocato Maurizio Paniz, abbiamo parlato di noi per forza di cose, perché è una vicenda che può riguardare non soltanto la nostra informazione, ma anche quella di altri giornali, di altre testate, può in qualche modo riguardare direttamente gli stessi cittadini. Allora, vi presento gli ospiti di questa parte di Focus, abbiamo titolato Stragi in mare e stragi sulle strade, perché davvero è uno stilicidio di morti sulle strade del Veneto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. E poi c'è stata veramente le catombe a largo delle coste della Grecia, un peschereccio con 700 migranti a bordo, si è ribaltato, si è capovolto, è affondato, pare che effettivamente il bilancio sia il peggiore in assoluto nella storia dei naufragi del Mediterraneo. Si parla di 700 vittime, continuano le ricerche, ma non si trovano superstiti oltre a quelli che sono già stati ritrovati. Vi presento gli ospiti di questa parte di Focus. Massimo Venturato, collegati via Skype, Massimo Venturato, commercialista, giornalista, buonasera dottore. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti di studio e telespettatori. Un'altra collega, Gloria Aura Bortolini, buonasera, buonasera Bortolini. Buonasera, grazie. Grazie molto, Corrado Cortese di Pia Europa, grazie Cortese, grazie a morte. Buonasera direttore, un saluto dei telespettatori e gli ospiti in studio. E qui in studio Matteo Penzo che è segretario comunale di Fratelli d'Italia a Chioggia. Buonasera direttore, grazie dell'invito. Sempre per Fratelli d'Italia l'avvocato Fabio Crea. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie avvocato. Per la lega Alberto Ferri in consiglio comunale a Martellago. Grazie, grazie Ferri. E Filippo Lazzarini che è il capo della protezione civile di Burano. Buonasera a tutti. Grazie, grazie molte. Io direi di sentire, fare un primo giro su questa ennesima vicenda che riguarda persone che annegano nel Mediterraneo. Negli ultimi dieci anni ne sono morte settemila. Pensate che numero spaventoso. E questa è una strage che non ha davvero precedenti. Dottor Venturato, qui ancora è polemica, c'erano state le polemiche di Cutro, anche in Grecia adesso la Guardia Costiera viene accusata di non avere raccolto delle chiamate di soccorso, anzi però la Guardia Costiera risponde che gli stessi migranti rifiutavano i soccorsi, c'è un rimpallo di responsabilità come avvenne anche qui in Italia. L'importante è che non dovrebbero partire, diciamo, io penso a 700 persone sul molo di Tobruk, che non è un paesino, è una città, è possibile che gli accordi tra Italia e Libia non abbiano portato almeno alla segnalazione di un numero spaventoso di persone che si imbarca su un peschereccio che ne potrebbe imbarcare almeno 100, 200, ma proprio a dire molto. Ma insomma intanto possiamo pensare che siano imbarcati questi disperati che cercavano di raggiungere le coste italiane così come dice la Guardia Costiera greca senza che non fossero già stati intercettati via satellitare. Insomma io con gli strumenti che ci sono oggi nell'ambito dell'intercettazione nel movimento marittimo non credo che la cosa sia avvenuta, come dire, a vista. Il problema esiste ed è, diciamo così, individuabile fin dalla partenza, il problema nasce sulla gestione di queste situazioni. Cioè nel senso che purtroppo adesso è capitato qualche tempo fa nella strage nostra di Cutro, ma adesso nasce un'altra strage, sorge un evento che sembra venga definito il più disastroso evento nel mare mai accaduto per il numero di morti. Si parla di 100 bambini che si erano rifugiati nella stiva che stavano per dormire, quindi colti nel sono. Insomma una cosa assolutamente drammatica e che necessita ancora di più in questa occasione, già lo si diceva con Cutro, ma voglio dire ancora una volta la necessità di non girarsi dall'altra parte e prendere atto che il fenomeno migratorio è un fenomeno che ci sarà sempre di più, non è un fenomeno che tende a diminuire. Quindi vuol dire la gente si sposta via terra e via mare perché cerca una situazione di miglioramento e siamo 8 miliardi di abitanti in questa terra, non è comparabile rispetto a un secolo fa che eravamo un miliardo in meno. Quindi voglio dire è evidente che dobbiamo considerare anche di meno di un miliardo in meno. Quindi dobbiamo considerare che l'aumento della popolazione, le situazioni di disagio in cui vivono portano giocoforza alla ricerca spasmodica di queste persone di gettarsi anche in situazioni disperate come lo sono queste pur di cercare un miglioramento. Del resto abbiamo visto delle immagini televisive che sono stati raggiunti anche da parenti probabilmente dai Paesi Bassi o da altre zone europee che aspettavano i loro parenti per il ricongiungimento. Quindi in buona sostanza io credo che la questione troppo tardi è stata affrontata, diamo merito a Giorgia Meloni che ha avuto un successo in questo senso anche con l'accordo del Ministro Piantedosi nell'accordo recente europeo, quantomeno per mettere giù un dato di partenza, un imprinting a questo tipo di problema nel senso che non possiamo, ripeto, girarci dall'altra parte. Il problema è mondiale e va affrontato in maniera mondiale. Allora Matteo Penzo, segretario comunale di Fratelli d'Italia. A Chioggia come vanno le cose con i migranti perché le prefetture chiedono ai sindaci di trovare posti in cui accoglierli, ma tutti i sindaci in genere dicono che non ce la fanno più. Bene direttore, fino a due anni fa avevamo un hub a Conetta di Cavarzere, c'erano 5 mila migranti, quindi era un hub forse uno dei più grandi del nord-est. Infatti ogni tanto avviene qui Alberto Panfiglio che era il sindaco di Cona. E quello procurava sicuramente un grande problema di ordine di sicurezza pubblica, nelle quali le forze dell'ordine erano costrette a distogliere i servizi di istituto per le strade per andare a fare dei servizi di vigilanza fissa negli hub. Fortunatamente con i governi che si sono succeduti nel tempo, il governo Salvini, insomma il ministro dell'interno, questo hub è stato dismesso e si è deciso di spostare i migranti in varie parti del territorio nazionale. Questo però, bene direttore, non comporta una risoluzione del problema, è solamente un qualcosa che va a sviare quello che è il reale problema dei migranti. Queste disgrazie che succedono via mare è l'emblema di quello che sta succedendo. Per troppi anni i governi, soprattutto l'ultimo governo prima del governo Meloni, non ha fatto una politica sui flussi migratori e possiamo dire, essere orgogliosi che il governo Meloni con l'ultima riunione europea è riuscito a mettere dei paletti fissi, cioè nel senso che non può essere che i stati che ricevono i migranti che arrivano dal porti di partenza debbano tenerli in carico e venire pagati dagli stati membri. Questo è stato un punto fermo del governo Meloni che noi siamo orgogliosi. Ovvio c'è tanto da fare, sì, bisogna fare tanto, bisogna metterci pancia a terra perché i disgrazi di questa natura non devono più accadere nei nostri anni. Ovvio che la tratta dei migranti è un business di natura puramente economica. Se facciamo un calcolo che un migrante paga 7 mila euro per venire in Italia, dove magari chissà cosa gli prospettano l'Italia come il paese delle mille soluzioni, il paese dove è tutto bello, dove tutto è semplice. Purtroppo però tanto bisogna arrivare in Italia e vediamo che succedono queste disgrazie. Poi si accorgono che quando arrivano in Italia non è tutto bello e non è tutto oro che lucide, quello che gli hanno promesso. Quando questi migranti arrivano in Italia il grande problema che abbiamo sono due. Una parte di loro va a fare dei lavori che ormai gli italiani non vogliono più fare, altri vanno a delinquere. Questo è un dato di fatto perché le nostre carceri il 70% derivano totalmente dai migranti. quindi questo è un dato di fatto, non è una questione di razzismo, non sono altre questioni, è una questione reale e veritiera. I numeri danno ragione su questo. Allora Gloria Aura Bortolini, giornalista, ha lanciato un podcast, un suo podcast molto interessante perché si parla di migranti di ritorno, cioè agevolare il ritorno in questo caso specifico di persone che sono emigrate in Europa dal Marocco e che in Marocco vogliono e possono tornare. Se ho capito bene Bortolini. Sì, è un podcast realizzato per la ONG veronese, Progetto Mondo, che conosco da anni, stimo il loro lavoro e quando mi hanno proposto di realizzare questo podcast ho subito accettato perché ho trovato appunto l'argomento molto interessante. Sono stata in Marocco e ho conosciuto appunto il lavoro sul campo che realizza questa ONG coinvolgendo anche nello staff appunto persone marocchine ed è indirizzato a persone che decidono di tornare nel loro paese dopo aver tentato la fortuna venendo appunto in Europa e quindi facendo anche la traversata dalla Libia alcuni di loro, la maggior parte appunto erano migranti irregolari e quando hanno avuto l'opportunità di accedere ad un finanziamento grazie all'ONG Progetto Mondo sono rientrati appunto nel loro paese e hanno aperto un'attività economica. Quindi sicuramente un messaggio molto importante su cui riflettere quando si creano delle opportunità di lavoro. Penso che nessuno voglia lasciare casa propria e le proprie radici. Poi ci torniamo ovviamente grazie per ora Bortolini e dopo questo ennesimo tragico naufragio c'è un attacco amaro e durissimo di Beppe Caccia attivista di Mediterranean Saving Humans e capo missione della nave Ionio. Sentiamo cosa ha detto a Lorenzo Maia. A poco più di 4 mesi dalla tragedia di Cutro quando avevamo sentito tante volte dire dai politici mai più siamo di nuovo a piangere, siamo di nuovo in lutto per un altro disastro nel mar Mediterraneo, nel nostro mare. L'ennesima tragedia che si è consumata nel cuore del mare Mediterraneo con il naufragio di circa 750 migranti, secondo il veneziano Beppe Caccia, capo missione della nave Mare Ionio e attivista dell'ONG Mediterranean Saving Humans, poteva essere evitata. Per ore non c'è stato quello che doveva essere un intervento di soccorso. Sembra di capire che forse lo stesso naufragio è stato creato, prodotto, determinato da una manovra azzardata di rimorchio da parte di una motovedetta militare greca. Caccia chiama in causa anche le politiche europee. Piangiamo ancora una volta donne, uomini, bambini, pare che ce ne fossero davvero tanti nella stiva di questo peschereccio, che sono vittime dell'assurdo regime delle frontiere europee, che sono vittime della chiusura dei confini, che sono vittime dell'impossibilità di entrare in Europa attraverso canali legali e sicuri che continuiamo a chiedere a gran voce, perché questa strage infinita abbia un certo punto fine. Il servizio di Lorenzo Maier c'è una grossa poligia, anche uno scontro politico sull'ONEG, perché sono in tanti a dire che proprio la consapevolezza che ci sono le navi pronte a soccorrere induce i trafficanti a partire e a portare verso le navi centinaia, migliaia di persone che poi spesso purtroppo muoiono nei nostri mari. Il governo, l'Avvocato Crea, ha preso delle misure restrittive nei confronti dell'ONG, ha fatto bene, secondo lei bisognava, per esempio c'è una legge che prevede che si possa fare un solo soccorso in mare e poi portare questi naufraghi non più in Sicilia o in Calabria, ma in porti del centro Italia, quindi sono arrivati alla Spezia, ad Ancona, a Civitavecchia. Direi che la restrizione per quanto riguarda i cosiddetti pattugliamenti da parte delle ONG era assolutamente doverosa, perché secondo un'indagine di qualche anno fa di Frontex, le navi ONG non svolgevano quella che era un'attività di soccorso in mare aperto, in presenza di situazioni di pericolo per quanto riguarda i naufragi, ma si è determinata attraverso le loro attività di investigazione che sostanzialmente queste navi ONG vanno direttamente non solo nelle acque territoriali, ma praticamente alle bocche di porto dei vari porti a recuperare quelli che sono i vari migranti. Quindi è evidente che più che mezzi di soccorso funzionano o funzionavano da veri e propri taxi, veri e proprie agenzie di viaggio per quanto riguarda i migranti, evidentemente stimolando ancora di più quello che era il fenomeno migratorio. Il governo è intervenuto con il decreto Cutro con due aspetti fondamentali. Per capire questo bisogna leggere quello che è stato il disastro di qualche ora fa in Grecia, perché dalla ricostruzione, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che uno dei motivi per cui il barcone, il peschereccio si è naufragato è per l'abbandono da parte degli scafisti del battello stesso con l'utilizzo di alcune scialuppe. Quindi nel momento in cui coloro che protestano per qualsiasi provvedimento del governo, anche il più ragionevole, avevano protestato per l'inasprimento delle pene con il decreto Cutro fino a 30 anni di reclusione per gli scafisti, si erano levati gli scudi dicendo no ma poveri scafisti sono spesso gli stessi migranti. No, questi sono soggetti criminali, professionisti appartenenti a quelle organizzazioni che facendo un rapido calcolo di 7 mila euro a migrante con quel peschereccio, l'organizzazione ha intascato circa 5 milioni di euro. Quindi prima di protestare contro l'inasprimento delle pene nei confronti di coloro che generano bagno di sangue all'interno del Mediterraneo, bisognerebbe fare molta attenzione. Questo è il primo provvedimento importante per quanto riguarda il decreto Cutro. Il secondo è proprio quello che va in linea con quello che diceva lei prima, e cioè questi 700 migranti erano come tanti altri sul molo di un porto, non in una zona assolutamente isolata. Quindi è evidente che uno dei problemi principali da affrontare riguarda gli accordi con quelli che sono gli stati di partenza. E quello è comunque l'ultimo momento, l'ultima barriera per poter impedire. C'è ancora di più, bisogna intervenire con quelli che sono gli stati che generano dei flussi migratori di natura economica perché si impedisca, perché si creano dei percorsi di virtuosismo economico proprio in quei paesi, abbandonando quello che è il colonialismo che molti paesi europei attuano per lo sfruttamento delle risorse minerarie e per quanto riguarda tutte le materie prime in quegli stati. Il fenomeno migratorio non si elimina con quello che diceva Caccia e cioè con il flusso indiscriminato in Europa di tutti coloro che vogliono arrivare. Perché l'Europa non è una damigiana, è un bicchiere nel quale si vorrebbe far entrare quello che è il contenuto di tutto il mare Mediterraneo, che evidentemente è qualcosa di non accettabile. Allora tantissimi sms, anche stasera sta crescendo una generazione di mostri, esibizionisti, nulla facenti, drogati, delinquenti, tutelati dalla giustizia e protetti dai genitori, figli degeneri di un'Italia senza Dio, in riferimento ai youtuber che hanno provocato un gravissimo incidente a Roma, filmavano a folle velocità questo loro percorso, hanno centrato una Smart con una donna e i suoi due figli, la figlia più piccola è morta e poi sono scesi dal SUV e filmavano l'auto a cartocciata. E hanno rischiato il linciaggio, peraltro, perché è abbastanza comprensibile che chi li vede poi filmare quello che hanno combinato passi alle maniere forti. Allora Filippo Lazzarini è il responsabile della protezione civile a Burano, di mare e di laguna se ne intende, per cui chiedo anche a lei Lazzarini un parere su la questione ai flussi migratori, le navi ONG, i soccorsi che evidentemente a volte vengono respinti, altre volte non vengono fatti, insomma, cosa ne pede? Beh, come ha detto l'Avvocato, il problema va affrontato al paese d'origine, questo è quanto. 600 persone sono un'enormità, è quasi un villaggio. I bambini, sai che io lavoro sui mezzi, sento sempre continuamente la gente parlare, c'è gente che capisce, c'è gente che non capisce, c'è gente che dice, ah beh, tanto, lascia che vadino tanto, sono andati sotto, cavoli loro. Sì, ma quei 100 bambini che c'erano sotto, sono morti tutti quanti, invece il tuo, se ha un raffreddore, lo porti dal primario a 200 euro in macchina, quindi anche sulla gente bisogna lavorarci, bisogna cambiare totalmente la mentalità che si ha. Gravissimo il discorso della segnalazione, perché come diceva il consigliere, il pescareccio lo vedi, lo vedi subito. è stato anche segnalato, mi sembra, dalle forze italiane, però non è stato fatto niente. Quindi è una tragedia che non si fermerà, fino a che non si andrà al problema, al discorso. Certamente le organizzazioni criminali guadagnano tanto, miliardi, è difficile fermarle. Poi se quel paese è anche debole di suo, il gioco è fatto. Senta, a Burano, a Mazzorbo, a Murano, arrivano i migranti o no? Le badanti? Si parla sempre in regione. Le badanti arrivano. Le badanti, le badanti. C'è qualcosa, insomma, sì, qualcosa, c'è qualcosa, una brutta cosa. Ci sono dei cittadini, ormai sono cittadini extracomunitari, che lavorano anche sui bar. Insomma, Murano sta riprendendo molto forte, anche come economia. Stanno aprendo pasticcerie, gelaterie. È un'isola che quando il turista viene, resta là per ore. Mentre a Murano va, vede un attimo e poi viene via, resta là per ore. Vero è che l'azienda di ACTV ha messo tre corsi all'ora, con dei vaporetti da 300 euro. I 300 euro, se arriveremo sì, con 300 posti, con capienza di azienda. Quindi, insomma, dalle 10 della mattina alle 6 di sera, l'isola è bella. Poi se ci fossero anche dei migranti, non li vedi in mezzo a 30 milioni di turisti l'anno? Diciamo che i cittadini sono in 2.000 a Murano circa. E poi sugli orari di punta arriviamo anche a 10.000, anche a 12.000. Quindi c'è sempre un'attenzione particolare, c'è sempre il medico, c'è sempre la guardia medica, ci sono sempre i volontari del gruppo Emergenza che fanno uno splendido lavoro. I volontari sono così, hanno due mezzi, noi ne abbiamo uno. Si cerca di fare il possibile. Senta, sulla, diciamo, lì non ci sono strade, ma sulla laguna spesso ci sono incidenti, i barchini che si schiantano contro le briccole, i ragazzi che rimangono feriti e a volte perdono anche la vita. Allora, regalare a finite le scuole una barca con un motore potente che fa gli 80 all'ora. Vuol dire come il genitore che dà la Porsche al neopatentato, più o meno. Quello che è successo anche con il discorso delle macchine, hanno noleggiato una Lamborghini. Perché hai 20 anni, allora non c'è più il vincolo, però ti dico che devi andare a 120. Ma stiamo scherzando? Io li metto a 20 anni, a 30 anni, ti do la macchina, tu che me la noleggi, ti metto un limitatore. Vai via con la tua Lamborghini, ti metto a 120 il limitatore. Non esiste che ti dico, ma devi andare piano. Ma il ragazzo non andrà piano, specialmente se si fanno i filmini, bisogna prendere il problema in mano e dire che si fa così. Allora, purtroppo è una strage sulle strade, in particolare della marca, pensate a 8 vittime in 8 giorni. Oggi l'ultimo saluto alle tre vittime della strage sulla Treviso Mare. Centinaia le persone che hanno voluto salutare. Ludovico Bronello a Biancade, Valeria Orsoni a Treviso e Dominga Orsato ad Altivole. Vediamo a servizio di Christian Arboit. Valeria scriveva felicità, sicurezza stessa. Per lei mi fa paracoltare. Non ho detto che non ho capo a parole. Nessun rimorso, quindi. Non so come riusciremo a vivere con questa tragedia senza farci ciò che a fare è il miracolo. Senza pensare a tutto quello che avremmo fatto ciò fare, di diventare. L'orgoglio per il percorso fatto assieme e l'angoscia per un futuro che sarà segnato dall'assenza. Sarà dura vivere senza Valeria e le sue tante qualità, dice il Papa Davide, nel giorno dell'addio in una chiesa votiva gremita. Oltre 500 le persone che hanno voluto dire addio alla giovane morta lo scorso fine settimana sulla Treviso Mare. A parlare sono anche il fratello di Valeria e un'amica. Ti voglio un bene infinito. Mi mancarei per sempre. Riposa in pace. Valeria. Il tuo bro. Alvaro. Mi sembra tutto sorreale. Ti immagino sempre qua vicino a me, ma è stranissimo non poterti abbracciare, non darti il buon giro. Mi abituo ai romani. Il filo di un dolore profondo unisce Treviso a Biancade, dove contemporaneamente si è salutato Ludovico Brunello, il 31enne collega di Valeria alla guida dell'auto che si è schiantata contro un pulmino. Dipingeva la sua vita dando colore anche alle persone che incontrava, detto Don Marcello durante l'Omelia, ricordando il giovane residente a San Biagio di Callalta. A sostenere i genitori ex dipendenti dell'Uls2, anche il direttore generale Francesco Benazzi. Ad Altivole, l'addio alla terza vittima, Domingo Orsato, la 52enne di Asolo che viaggiava sull'altro veicolo. Ma è stato un venerdì di lutto anche per il coneglianese, nella parrocchia di San Rocco, l'ultimo saluto a Walter Ronchi, il cuoco di 57 anni, morto con la sua auto a Mareno contro il muro di un'abitazione, nella notte tra martedì e mercoledì. Nella chiesa di Campolongo, sembra conegliano, addio al giovane Marco Zornio, il 23enne vittima di un incidente letale in sella alla sua moto a metà maggio sulla statale di Alemagna Vittorio Veneto. Marco ha lottato per settimane prima di donare gli organi. Si vede che Cristian Arboit, Alberto Ferri, poi sentiamo anche Corrado Cortese, palloncini, applausi, lacrime, dolore, però siamo sempre lì. Evidentemente non si fa abbastanza o non abbiamo capito che cosa sta succedendo. Non ci sono più feriti, tutti morti. Si schianta il motociclista, morto. Automobilista cade nel fosso, morto. Non lo so. Cosa ne pensi? Anche sui migranti, poi, se vuoi. No, ma c'è un filo rosso che unisce queste stragi. Il filo rosso è che siamo una società completamente diversa da quella che poteva essere 50 anni fa, nel senso che siamo una società egoistica, edonistica, che guarda a se stesso, a se stessa. E quando il giovane corre a 120 all'ora e si riprende, lo fa per un piacere suo, senza rendersi conto, che mette in pericolo la vita degli altri. Quindi questa forma di egoismo nel ricercare un piacere provoca tutta questa serie di danni. Nulla vieta al ragazzino di andare a 50 all'ora, ma se vai a 100 significa che non hai capito nulla, che metti a rischio la vita degli altri. E nella strage dei migranti, invece, siamo tutti quanti di una ipocrisia, tutti quanti, in senso generale, totale. C'è chi li difende. Noi della Lega, l'abbiamo sempre detto, Cassandri, inascoltate, blocchiamoli, perché se no viene fuori il disastro e rispetto a dieci anni fa il fenomeno è solamente aumentato. E noi, come Italia, siamo un porto di mare e non abbiamo i mezzi, come diceva il collega Crea, per difenderci, per assisterli, per recuperarli. Gli strumenti, Peccaccia fa soltanto dei voli pindarici di fantasia, strumenti legali per proteggere le frontiere e contemporaneamente prevedere accessi legali. Cosa significa? Sono chiacchiere. L'Europa non li vuole queste persone e scarica su di noi e li scarica pagando. Ma noi recuperiamo, noi, la Grecia, la Spagna, questi poveretti che continuano a rimanere poveretti. Bene il viaggio di ritorno in Marocco. Il Marocco è una terra ricca, come la Tunisia, come l'Algeria, ma nessuno ci pensa. E diventa uno sfruttamento dei migranti. Quindi, ritorno al punto di prima, siamo una società egoistica che pensa a se stessa, al dio denaro o al piacere di divertirsi con la macchina a 150 all'ora, uccidendo se stessi e gli altri. Non va bene. Se stessi no. Eh, si sono salvati. In questo caso si sono salvati i cinque youtuber, è morta una bambina, sono ferite, state dimesse la mamma e l'altra bambina, sono una famiglia distrutta. Cortese, poi però rimane il fatto che si susseguono vertici su vertici, no? Anche Giorgio Meloni, come tutti gli altri Presidenti del Consiglio, è andata in Europa, ha parlato con Macron, ha parlato con i tedeschi, ha parlato con i paesi di Wiesegrad, si è detto addirittura che per ogni migrante non accolto da uno dei paesi europei, in base a questi recenti accordi però non ratificati, ci sarebbe una multa da pagare, 20 mila euro a migranti da pagare al paese che li aveva presi, insomma, che li aveva salvati, no? Nel caso particolare l'Italia, Piantedosi, ha detto non vogliamo soldi, vogliamo che gli altri collaborino, che redistribuiscano, che accolgano anche loro, ma gli altri, gli altri ancora una volta dicono sì, sì, siamo vicini all'Italia, ma poi non fanno nulla, almeno per ora, poi non so. Non la sentiamo, dovrebbe attivare l'audio? Eccomi, eccomi. La sentiamo. Sì, sì, no, l'accordo che è stato fatto in Europa è stato un po' presentato come una sorta di vittoria, però vediamo le cose in maniera riflessiva e non di parte. Le tragedie come quella di oggi dimostrano che fare una politica basata solo sul ti do dei soldi per rimandarli oppure acceleriamo le procedure per rispedirli nei propri paesi non hanno alcuna funzione perché questi migranti, che che se ne dica, e non è più Europa che lo dice, lo dicono organismi internazionali, scappano da torture. Stiamo parlando di quello che succede nei campi profughi in Libia, in Tunisia, la Tunisia non è vero che è un paese ricco, assolutamente è sull'orlo del tracollo finanziario in maniera pazzesca. Si parlava del Marocco però, il Marocco. Sì, sì, no, no, ha citato anche la Tunisia. Ah sì? Il Marocco, condivido, che non ci sono quei problemi lì, ma dall'Etiopia, dall'Eritrea, dal Sudan, da tutte queste guerre, queste persone scappano da torture e da violenze inaudite anche dall'Afghanistan, quindi non le si blocca in questa maniera. L'unico, e quindi accelerare la procedura per reintegrarle è solo un o rinviare un problema o spendere soldi inutilmente. Per quanto riguarda, mi faccia dire una cosa, per quanto riguarda la capitaneria di Porto greca, fortunatamente abitiamo in un continente che è l'ultimo caposaldo dei diritti umani, quindi ci sono tutti i tracciati SAR e praticamente quello che dovrebbe fare l'Europa dovrebbe fare riformare il trattato di Dublino e ovviamente noi dovremmo essere presenti quando lo vorranno fare e abbiamo come nemici i paesi del nord. E seconda cosa ovviamente, e seconda cosa ovviamente, rientrodurre e introdurre la missione europea sul mare, quindi spendere i soldi che abbiamo speso per il PNRR, abbiamo speso per i vaccini, fare una missione navale patugliata e pagata dall'Europa e gestita dall'Europa, sgravando anche le ONG che a molti pensano, che chiamano taxi del mare, non vogliamo questi taxi del mare che ovviamente non sono taxi del mare, ma vogliamo fare questa cosa qua, oggi non sarebbe successo, questo per dire cosa? Che i tracciati internazionali sono tutti monitorati, la capitaneria di Porto e i greci non sono voluti intervenire per 10-12 ore, altra cosa sono gli italiani che hanno sbagliato a Cutro e poco, cito Sergio Scanduro che ieri è stato faccio citare il presidente europeo sul tema dei migranti ed è un corrispondente per Radio Radicale. E vado a concludere, due giorni fa la capitaneria italiana, notte e tempo, ma forse non bisogna farlo sapere alla Polizia Repubblica o forse non bisogna farlo sapere al Ministro delle Infrastrutture che si occupa anche ogni tanto part time delle cose interne, la capitaneria italiana ha salvato, mi sembra, tra le 78 e le 88 persone di notte e le ha fatte sbarcare perché abbiamo un'umanità che va al di là della parte politica. Concludo, ci sono chiare responsabilità della Grecia che alle due di mattina è arrivato il segnale e loro sono intervenuti nel pomeriggio. È tutto monitorato dai satelliti che mostrano tutte le movimentazioni delle barche. Quindi se gli stati non vogliono perché aspettano il bonifico oppure perché hanno un'umanità che è stata persa occuparsi di questa cosa, questo sì, e glielo dico da convinto europeista deve essere l'Europa che deve reintrodurre una missione pagata dall'Europa anche dai paesi che ci sono ostili su Dublino e che si occupi di presidiare questa cosa. Non mi si dica che rimandandoli a casa cambiano le cose, lo sappiamo benissimo, Human Rights Watch, non Emma Bonino, Human Rights Watch dice che tutte queste persone scappano da torture, violenze e quindi ripartiranno continuamente. E le pene, l'aumento delle pene, cosa vuole che ne dica uno scafista che disprezza la vita umana a questo punto? Pensa che vada a leggersi se sul decreto penale fatto dall'X governo, dall'X governo c'è un aumento di pene di tre anni, non farà più lo scafista, siamo persone che frequentano il mondo, quindi sappiamo che non ci ha scontato. E diamogli il premio? Sì ma crea qualche volta, affrontiamo i problemi non in maniera di oro. Allora se vuoi affrontare i problemi, cortese, bisogna partire da dati reali. Esatto. Bene, e allora non si può dire una cosa non corretta, perché dire che... te lo spiego, perché dire che tutte queste persone arrivano da paesi in guerra è una cosa non corretta. No, dove subiscono violenza, non guerra. Va bene, subiscono violenza. Non è vero. La maggior parte dei flussi migratori derivano da Bangladesh, Tunisia, Egitto, dove non ci sono torture, guerre civili, eccetera. Sono migrazioni di natura economica. Poi ci sono anche stati come l'Afghanistan, dove ci sono... ma i flussi migratori da quei paesi sono inferiori rispetto a quella che è la migrazione economica. Finché continuate ideologicamente a sostenere delle cose che non corrispondono alle realtà di fatto, non si può prendere in considerazione quella che è una politica europea, mondiale, su quello che è il flusso migratorio. Perché rimanete legati a quelli che sono delle concezioni di natura ideologica, senza fare riferimento alle reali situazioni di fatto. Sentiamo ancora Gloria Bortolini sui migranti di ritorno, perché c'è la questione del lavoro. Sentiremo poi Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto S, che dice in effetti abbiamo bisogno di mano d'opera, dobbiamo attingere dai lavoratori immigrati. In Marocco coloro che tornano nel loro paese poi trovano occupazione. Che riscontri ha? Allora, in questo podcast che intanto si chiama Sulla rotta del Marocco ho intervistato persone che hanno potuto accedere a dei finanziamenti. Parliamo di poche migliaia di euro, non sono finanziamenti enormi, ma che nel loro paese fanno la differenza e che gli hanno aiutati ad aprire un'attività economica. Parlo di bar, parlo di parrucchieri, parlo di autolavaggi, quindi attività economiche le più disparate, ma che hanno dato un'opportunità a queste persone di rientrare a casa loro e di ricostruirsi una vita. Dopo aver cercato fortuna in Europa, non l'hanno trovata e quindi ora sono felici di tornare. E questo permette anche a tutto il sistema della loro famiglia e quindi poi della comunità di progredire. Per cui assolutamente è stato un progetto molto interessante per me, che sono giornalista, e sicuramente di successo per l'ONG che l'ha creato, appunto Progetto Mondo, e per tutti i beneficiari di questa attività. Grazie, Gloria Bortolini. Poi parleremo, Gloria Bortolini, giornalista per la RAI, ha un programma, insomma partisce da un programma, poi ne parleremo, si chiama Camper, che è un po' simile da quello che ho capito al nostro itinerario turistici, insomma, un viaggio all'interno dei borghi o delle città a vedere, a scoprire le cose meno note. Poi ne parliamo. Intanto sentiamo, vediamo Leopoldo Destro, Presidente Confindustria Verito, cosa dice riguardo alla necessità delle imprese di avere mano d'opera che non si trova al momento, non c'è. Lavoratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del Presidente di Confindustria Veneto-Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180 mila le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta, chiedere al Governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante. In una unione, in un unisono e in una visione che deve essere appunto comune. Se ne ha parlato a Margheri in occasione della presentazione del patto per la coesione sociale firmato con CGL Cisle Will. In evidenza anche le 30 mila aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. E' evidente che rispetto a questo noi attraverso il patto anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma considerato che dopo a Solombarda rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria. Dottor Vetturato hanno aumenti del 60% per cui uno paga la rata e paga il 60% in più rispetto a quella precedente. Come sta andando questa economia? Dopo un periodo di Covid che ha creato sicuramente un grosso problema di aumento dell'energia che ha avuto una ripercussione immediata nelle produzioni industriali, non solo nel portafoglio delle famiglie, è chiaro che si è creato una situazione che è molto fluttuante, cioè perché facciamo fatica a inquadrare nel breve l'andamento economico? Perché per esempio l'inflazione che è in diminuzione in termini statistici, se la guardiamo, anche se non ha una diminuzione molto forte, non ha un riflesso immediato nella diminuzione dei prezzi del famoso carrello della spesa e quindi ha ancora un'alta incisività nel carrello della spesa, quindi vuol dire che il consumatore che va al supermercato spende ancora tanto rispetto a quello che è il potere d'acquisto della moneta. Viceversa è vero che c'è un crollo industriale, nel senso che la produzione è in calo rispetto allo stesso mese di un anno fa, però quindi vuol dire che per assurdo in un periodo di post pandemia non c'è ancora un effetto stabilizzante anche se è in calo il costo dell'energia. Vedete come ci sono delle contraddizioni, la stessa BCE ha aumentato il tasso dal 3,5 l'ha portato al 4% con l'ausio del Fondo Monetario Internazionale alla Presidente della BCE, la Banca Centrale Europea Christine Lagarde che ha detto stai andando verso il senso giusto, criticata invece dal governo italiano anche da Giorgetti se vogliamo, il nostro Ministro dell'Economia e Finanze che dice attenzione l'aumento dei tassi comprime la capacità di spesa, ha detto bene lei direttore prima, aumentano i tassi per esempio con l'aumento dei tassi i mutui hanno un riflesso nelle tasche di cittadini che hanno una casa con un mutuo normale almeno stimati da fede al consumatore di 20 euro al mese, non sono pochi se consideriamo l'insieme degli altri aumenti. Ora che cosa succede nel breve? La cosa ha un riflesso nell'immediato nella valutazione, ecco il caso anche dell'intervento di destro che chiama gli stati generali a rapporto e cerca di fare quadrato per trovare delle vie di uscita non solo per la ricerca di personale ma anche per la ricerca anche di materie prime perché ricordiamo che in tanti casi nasce il problema del riperimento per esempio dei semiconduttori soprattutto provenienti dall'Asia. Il ragionamento è sul piano privato di questo verso, sull'altro di quello dello Stato. Giorgetti ha concluso l'incontro con i ministri di Ecofin, cioè sul questione oggi del patto di stabilità. Si apre la discussione che finirà prima della fine dell'anno perché ricordiamo che dall'1.1.2024 entra di nuovo in campo il patto di stabilità. Il problema è anche qui, la Germania vorrebbe un paletto rigido, cioè ha chiesto a gran voce che ci sia una riduzione del deficit e una riduzione del debito automatico e ha trovato di fronte un ostacolo per fortuna anche della Francia. Quindi il primo ministro dell'economia Lindner della Germania ha avuto una contrapposizione della francese Lemaire insieme ovviamente a Giorgetti che dice che chiediamo una golden rule, una regola d'oro, cioè cerchiamo di avere una sospensione, perlomeno sui progetti del PNRR, del patto per evitare di limitare troppo la crescita. Insomma siamo in un tourbillon di economia dove da un lato c'è una spinta a crescere ma soffriamo molto di un'inflazione che ricordiamolo è sana quando si aggira intorno al 2-2,5%, cioè sinonimo di crescita, sicuramente è malata quando si aggira intorno al 7-10%. Allora torniamo, prima si parlava di persone originari del Marocco che possono tornare, hanno l'occasione di tornare nel loro paese, sono aiutate, ci sono tanti ragazzi all'estero che rimangono all'estero perché il più delle volte guadagnano meglio, trovano più facilmente lavoro, si trovano tendenzialmente bene, quindi ce ne sono tanti che non tornano. E oggi è tornata però purtroppo non è tornata più in vita, Anna Tuzzatto era una ragazza di Fiesso d'Artico che è morta in un incendio in Belgio, lavorava lì e lì si trovava molto bene, domani alle 15 funerali, in cui seguirà una commemorazione laica all'aperto al Parco Oriana Fellaccio, vediamo a servizio di Anna Maria Parisi. Tessera, aeroporto Marco Polo, ore 12.42, l'orario di etterraggio nella zona cargo del volo speciale SN3201 di Bruxelles Airlines che dal Belgio ha portato a casa il feretro della povera Anna Tuzzatto, la 29enne di Fiesso d'Artico morta per asfissia nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel suo appartamento nei pressi di Bruxelles, in seguito al rogo sviluppatosi per motivi di natura accidentale, così stando alle indagini svolte dalla polizia belga. Dopo poco più di un'ora arriva da Vigonovo il carro funebre con la bara che accoglierà la salma di Anna Tuzzatto. La famiglia, preferito non esserci, rientrata nelle scorse 24 ore proprio da Bruxelles, la attende a casa. Domani dalle 15 funerali a Fiesso, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, con l'omelia che verrà celebrata dal parroco del paese natale di Anna, Don Massimo Donà. Ultimo saluto che gli amici della 29enne hanno deciso di celebrare terminato l'omelia religiosa con una commemorazione laica all'aperto al parco Oriana Fallaci, sempre a Fiesso, per accompagnarla tra musica e ricordi più cari nel suo ultimo viaggio, all'insegna di quella condivisione e umanità che, ultimati gli studi universitari, l'aveva spinta oltre i confini di casa per inseguire i propri sogni. Saranno a Maria Parisi della nostra redazione di Mestre, Matteo Pezzo abbiamo parlato moltissimo ovviamente anche noi di Silvio Berlusconi, ovviamente le giornate del dolore, oggi la salma è stata cremata a Valenza e poi è tornata ad Arcore e si sta parlando ovviamente delle conseguenze di questa perdita per il centro-destra, in particolare per Forza Italia che pare sarà guidata, se non altro, ad interim da Antonio Tajani fino al congresso di Forza Italia. Cosa cambia in Veneto, nel centro-destra, se mai dovesse cambiare qualcosa? Io penso che con la morte di Berlusconi sia morto un uomo che ha portato l'Italia nel bene e nel male, posso dire, nel mondo, sia a livello politico, sia a livello imprenditoriale, sia come uomo di sport. A livello politico è indubbio che Forza Italia, un partito storico in Veneto, dove ha avuto il Presidente della Regione, Garan, con sua massima espressione per 15 anni, aveva un zoccolo duro che con la morte di Berlusconi penso avrà delle grosse difficoltà. Ci saranno delle lotte, come succede in questi casi, in testine perché Berlusconi non aveva costruito un suo erede. Ha provato più volte con la figlia Marina del suo erede putativo, insomma, per quanto riguarda il partito ed oggi è costretto, proprio anche con l'ok di Marina Berlusconi, al traghettatore Tajani. Ovvio che Forza Italia, il partito di Forza Italia, veniva eguagliato con il nome di Silvio Berlusconi. Oggi bisogna verificare quali saranno i contraccolpi della morte di Berlusconi e quali saranno gli scenari futuri non solo in Veneto, ma a livello nazionale. Ovvio che manca anche a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, manca come figura emblematica, cioè un uomo di spessore che nonostante il governo Meloni sia un governo autorevole sia in Italia sia in Europa, aveva come punto di riferimento, proprio come uno dei massimi consiglieri, il nostro Presidente del Consiglio, proprio Silvio Berlusconi e unitamente a Matteo Salvini. Nei prossimi mesi, direttore, vedremo quale saranno l'evolversi della vicenda. Ovvio che manca a livello nazionale un partito di centro dove conglobare tutte quelle forze moderate che non si rispecchiano né nei Fratelli d'Italia né nelle Lega. Si potrebbe fare una previsione di un'unione con Renzi e Calenda, creare un grosso partito di centro, ricostruire la vecchia democrazia cristiana e la balena bianca, però questo solamente nei prossimi mesi vedremo se l'idea di Berlusconi di ricreare questo grosso centro, convogliando all'interno anche il partito di noi moderati, Coraggio Italia di Brugnaro e cercando di fare un grosso partito europeista e di centro, possa essere lo sviluppo affinché il partito di Forza Italia non diventi un partito che un po' alla volta vada un po' sgrettolandosi. Noi speriamo di no, la nostra coalizione di centro-destra è una coalizione stabile, affiatata affiatata con tre anime all'interno, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, quindi per la tenuta della coalizione è importante che il partito si ricostruisca, anzi si rinforzi e cerchi di tenere quell'elettorato di centro che potrebbe essere un elettorato che molto facilmente si potrebbe spostare anche a sinistra. Allora, tanti commenti sulla perdita, la scopparsa di Silvio Berlusconi sul futuro del centro-destra, più in generale della politica, Michele Zuina, assessore del Comune di Venezia e fino a qualche mese fa anche coordinatore del Regionale Azzurra, ha tracciato un suo personale ricordo del Cavaliere, spazzando via i dubbi sul futuro del partito, dice andremo avanti nel nome di Silvio e quello che ha detto stamattina anche Antonio Tagliani. È sempre stato al suo fianco e lo ha sempre seguito dal 1994, giorno della discesa in politica di Silvio Berlusconi, che è diventato anche quello dell'appartenenza a Forza Italia di Michele Zuina. Oggi l'assessore al bilancio e alle partecipate ricorda con commozione l'ex premier comparso. Il ricordo più bello è stato quando io sono entrato in Parlamento nel 2005, entravo tra l'altro durante il voto di fiducia, lo raggiunsi al tavolo appunto dei ministri, lui stava ascoltando le repliche dell'opposizione e mi disse benvenuto in Parlamento, mi raccomando che c'è molto da fare. E anche recentemente, quando in diversi ambienti della politica veneziana alcuni pensavano potesse cambiare partito, visto la sua vicinanza con il sindaco Brugnaro, Zuina è invece sempre rimasto fedele agli azzurri. Penso che sia stato un uomo eccezionale, un uomo che ha dato tanto all'Italia e obiettivamente anche come partito, io che ho militato per 30 anni in questo partito che è Forza Italia, lui era la guida. Nessun dubbio sul cammino futuro del partito. Continua con le sue idee, continua con il suo carisma, ma mi sento di dire che continua anche il partito perché siamo fondamentali in questa maggioranza, perché siamo fondamentali in Europa, perché siamo fondamentali nel centrodestra. Veramente un grande saluto al mio presidente e come dico io, sempre per sempre il mio presidente. Televista di Lorenzo Maier, Filippo Lazzarini, Venezia è passata da molti anni, è stato egemo nel centro-sinistra, poi adesso con Brugnaro c'è stata la svolta verso il centrodestra. Lei che parla con tanti veneziani, che ha contatto con tanta gente anche per il suo lavoro di responsabile della protezione civile a Burano, che commenti ha raccolto in questi ultimi? Perché c'è stato un grande afflato, un'ondata di affetto per Berlusconi e per il scomparso di recente, però Berlusconi non è che abbia unito l'Italia, è stato molto divisivo, ma c'erano i berlusconiani e gli anti-berlusconiani fino a qualche tempo fa. Sì, guardi, io dal 2005 in poi sono stato presidente a Burano, con Forza Italia, e a Murano l'amico Stefano Zane, che adesso non c'è più, che io ricordo sempre con grande gioia nel cuore, si è affrontato questo percorso. Io ho visto i funerali ieri, si tagliava quel coltello, la tensione, il carisma era talmente forte, anche in quel momento che lui era là, chiuso su quella bara, che si sentiva proprio, la piazza piena, tutti per le strade che lo acclamavano, era un odio e amore, perché io quando sento in giro che parlo con tanta gente, Berlusconi è un pezzo di storia, non c'è niente da fare di questo paese, è inutile dire, ma adesso, Berlusconi è un pezzo di storia, un traghettatore di impresa che ha innovato, che ha costruito, che ha cambiato totalmente la televisione, ieri ho sentito anche Barbara Pallombelli e Clemente Mimung, dicevano noi siamo stati liberi, quello che non succede ai RAI, noi siamo stati totalmente liberi di fare il nostro lavoro, è un network che ha dato spazio alla gente e i network che danno spazio alla gente e che fanno bene il lavoro, disturbano, c'è poco da fare, la situazione anche che ci porta qui alla sede di Rete Veneta, disturba qualcuno e noi durante la pandemia sa che emittente avevamo per controllare i flussi e per sapere le notizie, Rete Veneta, quante volte abbiamo telefonato qui, quante volte abbiamo mandato i servizi anche da Burano, perché è una televisione che ti ascolta e che mostra alla gente veramente come sta la regione, come sta il paese, disturba. E allora cosa bisogna fare? E' affermarlo un pochettino, bisogna puntare anche sull'editore, bisogna fare, ma la gente non è così, la gente sa benissimo dove si trova il male e dove si trova il bene. E' avere una televisione a fianco, questa qua, una volta c'era i tre che era la televisione, no, purtroppo no, purtroppo questa è la televisione di tutti, in tutte le regioni, io vado sempre anche in Trentino, in montagna, arriva dappertutto, io la seguo dappertutto, io so in tempo reale tutto e quindi disturba, purtroppo disturba e Berlusconi disturbava anche lui. Questa è la realtà dei fatti, chi fa le cose con concretezza, con serietà, con professionalità, disturba. Questa è la nostra grande, e questo bisogna combatterlo purtroppo, bisogna crederci fino in fondo e bisogna dirlo. Si fa presto, l'italiano fa presto a dimenticare, però poi quando c'è il problema, c'è la risa di conti, tutto viene nella luce. A proposito di chi disturba i manovratori o comunque chi vorrebbe essere lasciato in pace, c'è il ministro Carlo Nordio, ha varato una riforma della giustizia che ha sollevato le critiche di una parte dei magistrati, l'ANM. Per ora si tratta di abrogazioni dell'abuso d'ufficio, intercettazioni telefoniche che vengono limitate a quelle penalmente rilevanti, non potranno essere pubblicati i nomi di terze persone che vengono coinvolte in un'intercettazione, non c'entra niente e vengono spiattellate sui giornali. Poi la custodia cautelare, insomma tanti interventi. Vediamoli sintetizzati in questo servizio di Francesca Bozza, poi torniamo ad Alberto Ferri perché c'è in vista anche il congresso regionale per la segretaria regionale della Lega il prossimo 24 giugno. Vediamo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Novità in arrivo per il traffico di influenze illecite, nei limiti d'appello dei PM e ancora nell'avviso di garanzie e nella custodia cautelare. Ma ci sono soprattutto due punti che dividono già i legali trevigiani, abuso d'ufficio e intercettazioni. In merito a queste ultime per l'Avvocato Alessandra Nava si tratta di un intervento doveroso. Troppo spesso ci siamo ritrovati a dover subire anche pubblicazioni di stralci, di intercettazioni, addirittura di brogliacci che avevano a che fare persone, che riguardavano persone che nulla avevano a che fare con i procedimenti in oggetto. Ma questo ovviamente come spesso avviene comporta poi mostrificazioni non soltanto per gli indagati, tanto più per persone che non hanno alcuna attinenza. Per il collega l'Avvocato Stefano Pietro Boni il vero nodo legato alle intercettazioni è da ricercare nell'abuso, nella divulgazione dei contenuti. La norma in questione sembra più voler limitare la divulgazione dei contenuti più che il ricorso a questo strumento di indagine che è evidentemente fondamentale per la repressione di alcuni gravi reati. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio con la riforma si va verso la cancellazione del reato. La norma, ricorda l'Avvocato Pietro Boni, è stata modificata quattro volte ed era stata vallata dalla Corte Costituzionale appena l'anno scorso. La riforma si pone, sembrerebbe porsi in contrasto con un preciso dettato della Corte Costituzionale, cioè la Corte delle Leggi. Il problema, a non mio avviso, non è tanto quello della abrogazione di una norma che impediva ai sindaci di firmare, ma forse di un abuso dell'abuso. Cioè alcuni magistrati in passato, alcuni pubblici ministeri hanno abusato di questa norma. Per l'Avvocato Nava a parlare sono le statistiche rese note negli ultimi giorni. Circa il 96%, se non mi sbaglio, di quelle ipotesi di reato sono state sempre archiviate. Rimangono ovviamente le situazioni più gravi, che peraltro vengono sanzionate più pesantemente, mi sembra che ci fosse anche un aumento di pena, con, credo, un'attenuazione soltanto per chi dovesse collaborare. Quindi, voglio dire, sulle situazioni più gravi non c'è stato un colpo di spugna. Ci dicevi Francesca Bozza, dobbiamo andare in pubblicità a pochi due minuti e poi torniamo con l'Avvocato Alberto Ferri. A tra poco state con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto, una notizia arrivata poco fa, miniere, giacimenti nascosti del Veneto, l'Unione Europea vuole riaprire 13 siti. Ce l'ha soltanto il Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello, l'Aida dei Cento Anni all'Arena di Verona, la grande lirica in canta in mondo visione, e poi Bottega Veneta per la calzatura, un nuovo polo in riviera del Brenta. Batterio Killer a Verona, al punto nascite, Alice Uccisa e Benedetta Cerebrolesa, sette verso il processo, un'altra drammatica vicenda. Torniamo alle questioni di cui parlavamo prima. Alberto Ferri, la riforma della giustizia ha fatto bene, secondo lei, ad abrogare l'abuso d'ufficio. Nordio, sentivo oggi Giuseppe Conte che diceva che volevamo modificarlo anche noi, ma non toglierlo. Cosa ne pensi? Nordio ha fatto benissimo, perché l'abuso d'ufficio, o meglio quel 3-23, era un reato non reato. Dentro quella formulazione ci poteva stare di tutto e permetteva a qualsiasi di lamentarsi nei confronti della Procura con un semplice, esposto con le classiche frasi che anche il mio collega Crea conosce, baluti la magistratura se questi fatti si ravvisino degli eventuali reati e questo dava il via a tutta una serie di inchieste che poi, come dimostra la statistica, non portano a nulla. Ma questo significa che il politico che deve fare il politico era sostanzialmente sottoposto a una specie di, fra virgolette, ricatto e timore di poter sbagliare. Quindi l'abuso d'ufficio deve essere eliminato. Ci sono i reati tipizzati, tipici, eccetera, e per quelli chi sbaglia verrà colpito e verrà punito. Ma l'abuso d'ufficio, insieme anche a tutta la storia delle intercettazioni, anche voi siete stati colpiti per colpa delle intercettazioni. Anche questa è una vergogna che non rende onore al sistema giustizia o a quello che dico io, al sistema ingiustizia in Italia. Perché dire che c'è giustizia, nonostante i valorosi giudici che lavorino, non è una frase fatta. Raccontavo prima che in questo momento nei tribunali d'Italia ci sono migliaia di processi che vanno verso la prescrizione. Il sistema vuol dire che non ha funzionato, perché la prescrizione è il fallimento della giustizia. Le vittime non l'hanno avuto e gli imputati, se condannati e se accertata la loro responsabilità, non verranno puniti. Questo, ripeto, non è giustizia, è ingiustizia. Quindi bravo Nordio nel cominciare a fare pulizia di ostacoli alla vera giustizia. Avvocato Crea, lei è d'accordo su questo? Assolutamente sì, anche se è questa che è stata indicata come la riforma della giustizia, è il primo passo per la riforma della giustizia. Ci sono alcuni aspetti sicuramente importanti. Abbiamo visto l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, perché era evidentemente una norma troppo ampia, lasciava troppa libera interpretazione, era poco tipizzata, tanto è vero che delle migliaia di processi condanne sono state 18 negli ultimi anni. Questo è il primo aspetto. Per quanto riguarda le intercettazioni, possiamo parlare di un ritocco per il minimo sindacale, nel senso che è stato introdotto un principio che, devo dire, dovrebbe essere un principio fondamentale non certamente normato, che è quello della tutela di soggetti terzi dal pubblico ludibrio, come spesso è capitato. La vera problematica, lo diceva prima il collega Pietro Bonn, è l'eccessivo ricorso alle intercettazioni telefoniche, che dovrebbero essere un supporto di ricerca, un mezzo di ricerca della prova, un supporto per quanto riguarda situazioni che già individuano la sussistenza di una fattispecie di reato. Invece da noi oggi le intercettazioni costituiscono il modo attraverso il quale, come una reta strascico nel mare, un facile modo attraverso il quale si cerca addirittura la notizia di reato. E questo evidentemente è qualcosa che determina poi una situazione di inaccettabile invasione della sfera privata per ciascuno di noi. Oggi ci sono degli strumenti tecnologici che sono di una grandissima invasività, pensiamo solo al Trojan, che è uno strumento attraverso il quale c'è un monitoraggio totale della nostra vita che oggi si esplica attraverso i nostri sistemi informatici, computer piuttosto che telefono. Noi siamo oggi accompagnati da quello che è uno strumento di controllo della nostra vita. Questo è assolutamente inaccettabile e io spero che il Ministro Nordio intervenga soprattutto su questo eccesso di violazione di un diritto costituzionale che è il diritto alla riservatezza. Corrado Cortese è il governo sotto attacco dal centro-sinistra che parla di allergia ai controlli, che parla di un'attività che sul versante della giustizia si vuole rallentare con l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Lei cosa ne pensa? Dato penso che una volta di più dimostriamo noi più Europa che non apparteniamo al centro-sinistra perché abbiamo salutato con un certo favore, evidenzio un certo favore su alcuni punti molto molto importanti. Ricordo che Nordio, sarebbe stato bello che tutti questi discorsi non ci fossero e fosse stato approvato il referendum di cui il presidente della commissione referendaria era proprio il professor Nordio. Insieme ai radicali e la Lega e più Europa che ha appoggiato. I temi erano questi importanti. Noi abbiamo osservato che l'abuso d'ufficio non l'avremmo cancellato ma l'avremmo tenuto come illecito amministrativo. Sollecitiamo una lenzuolata di depenalizzazioni, quindi a rafforzare, diminuire, non aggiungere nuovi reati che non serve a niente. Sulle intercitazioni siamo ultra d'accordo, completamente d'accordo. Le intercitazioni a strascico è una patologia del nostro sistema. Cercasi disperatamente separazione delle carriere. Ero presente non al congresso di più Europa ma alla festa del foglio della tecnologia e c'era l'invitato il dottor Nordio è venuto e ha citato esattamente che dietro a questa, come diceva Crea, dietro a questo inizio di riforma, dietro l'angolo ci sarà la separazione delle carriere. A mio avviso lì ne vedremo delle belle perché voglio vedere se riescono a portare avanti questa cosa qua. Però benvenga assolutamente. Sulle intercitazioni siamo super d'accordo. Sulla cautelare è una battaglia che facciamo da quando siamo nati e facciamo politica. Quindi benvenga. Aspettiamo la separazione delle carriere che cito non mille anni fa ma cinque giorni fa a Venezia in piazza San Marco il ministro della giustizia ha detto che è una cosa che assolutamente va fatta. Bene grazie Gloria Bortolini. Parlavamo di una trasmissione che lei cura sulla RAI, alla RAI che è camper. Riguarda diciamo un turismo e quant'altro. Andate a vedere quali sono le bellezze delle delle città dei nostri dei nostri paesi di tante località anche che non sono necessariamente turistiche sono comunque località che sono da scoprire da vedere. Si è un programma di racconto del territorio quindi un programma di viaggio l'anno scorso mi sono occupata del racconto dei borghi, 65 borghi italiani da nord a sud dell'Italia. Sono stata anche in Veneto a raccontare i borghi della nostra bellissima regione. Quest'anno invece mi occupo delle città quindi racconterò le città in una chiave curiosa e inedita tutto quello che si può trovare in una città fuori dai classici circuiti turistici. Quindi il programma partirà lunedì prossimo alle ore 12 su RAI 1 fino all'8 settembre. Quindi vi terrà compagnia per tutta l'estate. Bene complimenti. Noi abbiamo un programma che si chiama itinerari turistici curato da Ida De Poli che gira proprio in tutti i comuni del Veneto. È molto seguito e i protagonisti di questo programma sono tutti anche tutti i sindaci di questi paesi che fanno un po' da guida, si trasformano in ciceroni e raccontano la loro realtà locale. Grazie, grazie Gloria Bortolini a presto. Buon lavoro tra l'altro lei è trevigiana no? Esatto, torno a Treviso dal 2 al 5 agosto per l'Edera Film Festival quindi invito tutti a seguirci in questo evento. Bene bene ci saremo ci saremo. Allora quanto ormai non abbiamo più tempo purtroppo devo salutare gli ospiti quindi Gloria Aura Bortolini grazie molte arrivederci buon lavoro. Dottor Massimo Venturato commercialista giornalista vuole chiudere dottore con una una pillola di saggezza? La pillola di saggezza è formiamo la giustizia per una vera giustizia. Mi sembra davvero una perla inestimabile. Grazie dottore, grazie molto davvero. Grazie tante. Matteo Penso che è segretario comunale di Fratelli d'Italia a Chioggia. Dopo le parole dell'amico Massimo non posso che essere d'accordo con nessuna parola. Non ci sono altre parole da dire. Non si può dire altro. Grazie all'Avvocato Fabio Crea. Grazie, buon lavoro. L'Avvocato Alberto Ferri della Lega, grazie. Avvocato Filippo Lazzarini della Protezione Civile Burano e grazie per i complimenti a Rete Veneta sempre molto graditi. Il miglior complimento che ci si possa fare è essere vicini ai cittadini, alle comunità. Quindi grazie. Grazie per averlo detto. Corrado Cortese di Più Europa. Cortese, a presto. Buon lavoro. Grazie mille. Un saluto a tutti e ai tre spettatori e agli ospiti in studio. Praticamente ho salutato tutti, se non ricordo male. Saluto anche Fabrizio Bazzoni questa sera con Tony Poll e ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG. Grazie tante. Buonanotte. In collaborazione con E3SPA, energia, territorio, risorse ambientali, Grazie a tutti.